È emerso che le nostre preoccupazioni riguardo i lavori di ultimazione delle scogliere erano purtroppo fondati, perché dall'interpellanza di ieri sono emersi tre dati importanti. Il primo è che ad oggi non è stato appaltato il lavoro di progettazione definitiva dei lavori. Non sono stati messi a bilancio i 200.000 euro richiesti dal Comune per cofinanziare l'opera e forse peggio ancora non è stato nemmeno richiesto formalmente alla Regione di darci una mano e quindi spendere gli altri 800.000 euro per completare le scogliere. Che cosa chiedete come Lega Fano? Di fronte a un problema del genere non ne facciamo assolutamente una questione partitica, per cui questa mattina abbiamo protocollato un ordine del giorno per dare un mandato forte a Seri affinché possa intercedere con la Regione e reperire i fondi necessari all'ultimazione delle scogliere. È ora di passare dalle parole ai fatti. Gli ultimi due pennelli mancanti delle scogliere, quindi quelli che ci porterebbero fino alla diga foranea, sono una necessità primaria per Fano e per il Comune di Fano. Tenuto conto che in un progetto di waterfront come quello che stiamo approcciando in Consiglio Comunale riteniamo che abbiamo la necessità di inserire assolutamente questo progetto perché salvare le spiagge dall'erosione è fondamentale prima di poter riqualificare l'intera area. Grazie.